ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv si continua ancora qui con la posta arrivata un'altra bella letterina contenente le figurine dei calciatori 2018 2019 ma stiamo stringendo ragazzi portando a termine questa raccolta mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti perché ne vedrete veramente di belle nell'ambito delle figurine in generale ma soprattutto le figurine calciatori panini e questa raccolta dei calciatori 2018 19 sta affinando ma stiamo portando avanti molte altre raccolte tipo fifa 365 2019 la champions league 2018 2019 e raccolte più vecchie raccolte ancora più nuove tipo road to fifa euro 2020 ragazzi quindi c'è veramente tanto tanto da vedere quindi iscrivete al canale attiva della campanella e cercatemi anche sui social tra cui instagram e facebook per seguirmi anche lì allora detto questo ragazzi e mi farebbe piacere se voi lasciaste un commento qui sotto con la vostra figurina preferita tra queste che adesso apriremo questa busta che sono tutte miei mancanti e io vi lascerò un bel cuoricione al vostro commento quindi mi raccomando commentate la vostra figurina preferita apriamo subito questa busta e ringraziamo daniele stavo scordando la cosa più importante ringraziamo daniele il 994 se non sbaglio il suo nickname non dico il cognome perché non me l'ha chiesto di essere salutato per cognome quindi dico il suo nickname ciao daniele grazie mille per questo scambio e apriamo questa busta ammazza e bella confezione che ha fatto daniele bellissimo come vedete ha fatto una tasca a proteggere le figurine con questo cartoncino e delle adrenalin figurine conservate benissimo perché poi c'è anche questo astucetto allora abbiamo santander del bologna questa figurina speciale missiroli della spalla ciciretti del parma ciciretti c'è una faccia e fa paura albiol del napoli caseres della lazio cilicic dell'atalanta miralas della fiorentina lagumina nell'empoli teracciano dell'empoli favilli del genoa e milenkovic della fiorentina ragazzi per questo spacchettamento questa unboxing della bustina che mi è arrivata contenente queste figurine tutto ci vediamo nel prossimo video e non perdetevelo ragazzi perché sarà il cielo mi manca di questa raccolta quindi non perdetevi veramente il prossimo video perché ne vale la pena ciao a tutti